Ebbene, buongiorno, buongiorno, adesso mi sposto e vi faccio vedere meglio, ma comunque sembra che abbiamo organizzato tutto al meglio quest'oggi. Quella che vedete lì è la mongolfiera e quello che vedete è Como questa mattina dopo le nuvole di ieri, una bellissima giornata. Allora, siamo venuti a Cardina perché giustamente eravamo già stati qualche tempo fa e abbiamo visto che c'è proprio questo buco nella rete, vedete questo qua, è un buco che è stato fatto e da qui, da questo buco nella rete, io vi saluto e vi dico buongiorno Como con questo stupendo paesaggio e panorama che oggi abbiamo qui davanti a noi. Guardate che bella la nostra città, buongiorno a tutti e quella sì è la mongolfiera, quello là è il Monte Orfano, buongiorno Franca, buongiorno a Rosa, a Nadia un abbraccione, un saluto a te, anche a Rauda, buongiorno Pia, buona giornata a tutti, Milco anche a te dal buco di Cardina, io vi saluto, Teresa, buongiorno a Rita, sì quella è la mongolfiera che è sopra il cielo di Como, saluto anche ad Alessandro, oggi è bellissimo Alessandro, Gian, Ale, Pinuccio, buongiorno a te, Matteo, buongiorno Como, Dado, Katia, cari amici che ci sono sempre, Monica, Tiziana da Plesio, buongiorno, verremo la settimana prossima, Giuseppina, Giancarlo, Clara, buongiorno, è uno spettacolo vero, ciao a Mimmo, alla nostra nonna Agnese, nonna io oggi ho un freddo esagerato, Lorella, Lori, buongiorno a Nadia, una giornata stupendissima, ciao anche a Sandra, ad Anna Rosa e qui si può fare una stupenda foto, ciao a Gianfranco, ciao a Lidia, buongiorno a Rossella da Messina, a Cristina, buongiorno a tutti, ciao a Rosi, buongiorno ancora da Dado, Katia, Anna, buongiorno, è un panorama ammozzafiato direi, Lorena, buongiorno, Lorena, un saluto a te, a Mauro, a Luisella, a Donatella, buongiorno Nadia, auguro serenità e sole, bravo, che bell'augurio Nadia, bellissimo, Michele, Anna Maria, Mimmo, vi aspettiamo, vengo anche a Fino, Lorenzo, Mirco, buongiorno ad Angela, buongiorno anche a Federica, è una giornata di sole bella, bellissima, Massimo, da Mariano, Silvia, buongiorno a te e poi anche a Coradado e Katia, Franca, buongiorno, Rosa, ci sei anche tu, aspetta un attimo che mi è sfuggito tutto, a Marusca, Cosimo, buongiorno, Maria Grazia, Loretta, un abbraccione, ciao Lori, a te, a Silvia, ma che vista, Malvina, Eudocchia, Marilena, buona giornata da Gravedona, a 7 gradi, è qui, ma è freschino, è poi Antonia, ad Angela, ormai ottima idea per una foto, che freddo, ciao Marco, buongiorno a Sergio, Marcella, Antonia, Maurizio, D'Occhia, Lara, ci sei anche tu, io ormai ho la finestra aperta, mamma mia, incredibile, ad Algisa, Cosimo, Andreina, quanta gente ci scrive, anche la nostra, Lidia, buongiorno, Paolo, buongiorno, anche a Valeria, a Giuliana, buongiorno ragazzi, mi state sfuggendo oggi, scusate, aspetta, torno indietro, Lidia, Lori, Franco, Sergio, Angela, Malvina, Eudocchia, Cosimo, Tiziana, Katia e Dadossi, poi ciao l'amico sindaco di Cernobbio, Matteo, ieri ci ha ospitato lui, Cinzia, Samantha, buongiorno Samy, un saluto anche a te, a Cinzia, a Sergio, eh sì, è davvero bellissimo, ad Antonia, un basin alla Sciura Ornella, poi vi dico qualcosa, Lori, ciao, buongiorno, giornata freschina, Cinzia, Maria, grazie anche a te, guardate che belle anche le nostre montagne, Stefano e Samantha, dove sei? Siamo nella collina sopra Como, Cardina, Dolores, buongiorno, un abbraccione anche a Dolores, a Milena, a Cecilia, che ci scrive sempre, a Giacomina, a Dolores, appunto, un abbraccio anche a lei, è veramente stupendo, fa freddo, è 8 gradi, ciao Ornella, ma che bel buongiorno, Maria, buongiorno, Patti, Angelo, allora, la nostra Sulla Ornella ci sta guardando in questo momento, da parte mia, da parte di tutta la nostra famiglia, facciamo un grosso abbraccio a lei, per qualche giorno magari non sarà più vicina e le facciamo un grosso in bocca al lupo, diciamo solo questo, Ornella, noi ti vogliamo bene, ti aspetto prestissimo, prestissimo, per fare i video del buongiorno, io e te assieme, ciao ancora a Luigi, buongiorno, no, un colpo di tosse succede, succede, ciao, giornata mondiale del disegno, ci scrive Francesco, ah, allora, questo può essere un bel disegno, il buco, guarda, ecco, guarda qua, buongiorno Francesco, anche a te, a Cinzia, a Patti, ad Ornella, a Milena, a Cecilia Ornella, ti aspetto presto, eh, dicevo Luigi, Alca, buongiorno a Samantha, siamo vicini alla Sciura Ornella, ecco, brava Sammy, a Luisa, un buongiorno a te, un abbraccione, cara Luisa, non vediamo l'ora di riabbracciarti, scrive anche Francesco, ciao Amino, la cartolina, ci scrive la nostra Agnese, bellissima, Nadia, guardo fuori dalla finestra e ragazzi, viviamo in un paese meraviglioso, e Nadia, concordo pienamente, poi magari tra poco vengo anche da te a fare il buongiorno, dove abbiamo già visto qualcosa di meraviglioso dal tuo balcone, se mi ospiti, ciao Marcella, se sposti e si inserita la telecamera, mi vedi? Eh, dove sei? Dove sei? Non ti vedo, buongiorno a Marcella, comunque un abbraccione a te, ciao Cardano, un abbraccio virtuale, Raffaella, buongiorno, Cusino, Anna Rosa, buongiorno anche a te, Raffaella, sì, Guidone, ciao caro Guido, Patrizia, ecco, io mi spostato, no, aspetta, no, sinistra, no, no, sinistra è qua, è stato sbagliato io, però c'è il sole qui, va bene, ciao Gio, sei il benvenuto, grazie Nadia, sei sempre gentilissima, buongiorno ancora ad Angela, a te a Nadia, buongiorno a Guido, Pamela, l'abbiamo salutata, Antonia Ornella, sei la nostra mamma acquisita, ti abbracciamo, brava Antonia, che bel augurio, un saluto anche ad Anna Rosa, a Raffaella dalla Valcavagna, a Clara, buongiorno, forza la Sciura Ornella, ciao Carmine, è una giornata meravigliosa, e allora forza la Sciura Ornella, glielo diciamo tutti assieme, un saluto anche a Rosanna, buongiorno, taspecium, abbiamo bisogno di te, ho bisogno di lezioni di dialetto, allora ti aspettiamo, ciao anche a Dumea, Carmine, buongiorno, eh ho sbagliato, e dov'è? Allora, dove sei Marcella? c'è la luce, vabbè, mi sono spostato ma non ti ho visto, dove sei? vabbè, ah sì, ciao Cosima, Orazio da Canossa, buongiorno cari amici, eccoci qua, beh è bello dal buco comunque di Cardina fare il buongiorno, ragazzi è uno spettacolo, Elisa buongiorno anche a te, a Cosima, a Nicola e a Dumea, a Carmine, buongiorno Marcella, ah destra, aspetta, destra scusa, ah ecco, allora, destra, ho girato giusto, quindi destra è qua, vabbè, vabbè niente, non ti ho visto Marcella, peccato, un saluto e un abbraccio a te, dai, un saluto a Cinzia, c'è la voce un po' spezzata, eh beh, questo non lo so per quale motivo, l'altra nostra Ornella, buongiorno, ho capito, un abbraccio protetta dagli angeli, sì certo, assolutamente, ma anche da noi, che li vogliamo tanto bene, Ornella io ti aspetto veramente presto, quando usciremo a fare il video del buongiorno, sarà un'altra giornata meravigliosa come quella, ciao Ornella, grazie, Piera, buona giornata a te, un saluto anche a Sabrina da Blessagno, un altro posto che vi consiglio di andare a vedere perché è meraviglioso, veramente bello, poi l'amico Mario, spettacolo di monti verdi e di acque meravigliose, ciao Mario, grazie, riflessi poetici, sei un poeta tu, ciao Giuseppe, Alexandrina, ma curiosità, a fine, aspetta, a fine serata quanti passi arrivi Marco? Ecco, sai che non li ho mai contati, 24.000 puoi dire che sei un grande, che bello la mattina tutti insieme, è come se bevessimo, ma che bel pensiero che hai avuto, cara Nadia, ma che bello, un basin alla ciuronella, grazie Nadia, è vero, siamo ormai una bella famiglia, Francesca, buongiorno a Faustina, Clara, un salutone anche a te, ce l'ha il conto, eh no, non ce l'ho, ecco, le campane ragazzi, amici cari, eccola là, c'è la mongolfiera, adesso ve la faccio rivedere, sentite le campane, eh, non mancano, sono le sette e mezza, ah, in sette e mezza, eccoci qua, perfetto, dal buco di Cardina, che poi alla fine, dove cavolo? Ah, eccolo qua, il buco è questo qui, il buco, il famosissimo buco è questo qui, ciao Maria, ma quasi, buco, Cardina, wow, ha detto, Paola, Nadia, grazie, che bei pensieri che hai avuto Nadia, sei stata gentilissima, un saluto a Paola, a Clara, un basin, grazie, Francesca, Nadia, Guido, metterò il contapassi, Silvana, che saluta Anna Rosa di Cucciago, ciao Silvana, un caro saluto a te, un saluto a Carmen, buongiorno a Piera, a Sabrina, Ornella, la biancina, Silvia, Elisa, mi stava sfuggendo, Silvia, un abbraccio, grazie, che so che ci segui sempre, anche tu sei gentilissima, insomma, tutti siete veramente Romeo, poi saluto, e poi mi sono sfuggiti un po' tutti, spero di andare a recuperarli, perché se no è un casino, aspetta, vediamo se li trovo tutti, allora Marinella sì, Clara, Francesca, Silvia, in fondo si vede la mongolfiera, che si alza in volo, eccola qui, sì, infatti, no, si è già alzata Silvia, a dirti la verità, la mongolfiera, adesso vi zoom un po', ve la faccio vedere meglio, così chiudiamo, ciao Sandra, dai, facciamo la gara a chi la sera ha fatto up sul cielo, ah, va bene, sì, lo so che c'è, ma sono un po' pigro, il contapassi in genere ormai lo trovi integrato sul telefono, controllo, ah, va bene, allora controllerò, va bene, va bene, bravi ragazzi, ciao Katia, ciao Giuseppe, allora controllo, ciao Virna, buongiorno a te, ciao Federica, buongiorno, che bel pensiero, un caffè tutti assieme, Nadia oggi è stata veramente meravigliosa, grazie Nadia, un abbraccione a te, un abbraccio a tutti voi, però facciamo la gara a Cassandra, Marinella, buongiorno, Katia, buongiorno a te, da Albate, Achille, sveglio la piccolina, ciao Nadia, grazie, un abbraccio, ciao Ornella ancora, Dolores, sei un grande, ma figurati, ci mancherebbe, ciao Dolores, Calogero, buongiorno, Oliver, buongiorno, ma c'è anche Emanuela che saluto, ciao Emanuela, buongiorno a te, c'è anche la Shura Elvia, buongiorno Shura Elvia, è bello trovarti, vieni a Castelmarte, va bene Francesca, contatemi su Messenger, che poi ci mettiamo d'accordo, davvero, con piacere Francesca, Castelmarte mi manca, devo venire, promesso, vengo, allora, zoomiamo sulla nostra mongolfiera, che questa mattina, vedete, è sopra il cielo di Como, eccoci qua, cielo bellissimo, giornata meravigliosa, non c'è una nuvola dopo il brutto di ieri, contattami, amica di Castelmarte, che ci accordiamo anche per venire lì, con piacere, Francesca, ok, mi raccomando, giornalista top, Clara, grazie, dei complimenti, sei sempre troppo gentile, Clara, grazie, ciao, buongiorno Shura Clara, buongiorno a tutti, a chi ci ha scritto oggi, sei troppo simpatico, no, siete voi simpatici, ciao famiglia, c'è una che si chiama così, è veramente bello, grazie Nadia, grazie a Emily, ma anche grandate, certo, sono venuto a grandate, però, dai, Ornella è con noi, dice Lori, certo, sarà con noi sempre, e torneremo, poi vedrete che io e lei torneremo a fare il video del buongiorno assieme, fidati, fidatevi, allora, intanto da Cardina vi saluto, guardate che cartolina meravigliosa che oggi è il nostro lago, saluto ancora Sandra, anche la chiesetta di San Nino, e sono venuto anche lì, però va bene, Dolores, Rosella, buongiorno, poi ci ha salutato anche Paolo Alberto, grazie, 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 grazie a tutti voi, siamo una bellissima famiglia, devo dirlo, questo mi fa un grande, enorme piacere, Faustina, buongiorno di poter girare, ciao a Fender, anche ci manca un video del buongiorno, amica mia, ciao, ciao, ciao a Rosa, un saluto a Paolo, al fantasmagorico, ciao a Paolo, a Loredana, buongiorno, Loredana ci ha detto ieri, che questo periodo tra San Marco e San, non mi ricordo più, è un periodo dove c'è giorni caldi e giorni freddi, è un vecchio detto dialettale, siamo i Marcagnez, dai, ma dai Sandra, sei meravigliosamente simpatica, grazie, Paola, da Ferrara, Pasquale, una buona giornata a te, a Loredana, e allora, Loredana, se riesci a scrivere al volo quello che mi ha scritto ieri, è stato bellissimo, ma non me lo ricordo più, Elisabetta, buongiorno, Ines, ciao Nadia, buongiorno, ancora Rossella, siete veramente straordinari, ciao Elisabetta, Santa Croce, ah ecco, e tra San Marco e Santa Croce, Loredana, poi aggiungi il resto, che lo leggo al volo in diretta, nel frattempo vi faccio ancora vedere questo splendido paesaggio con la mongolfiera sopra di noi, e guardate che bello, davvero, è tanto verde, a me piacerebbe andare, magari un giorno, e quando vai, dimmelo Agnese, che ti vengo a riprendere, va bene? Tre joli, grazie, dai Clara, troppo gentile, basta con i complimenti, Isabella che ci scrive dalla Francia, bonjour a tu, bonjour a te, davvero un caro saluto anche a Felipa, buongiorno a Rosa, i Marcagnez, questo è veramente straordinario, Sandra, sei veramente da premio Nobel, ciao Angela, buongiorno anche a Miel, buongiorno, mi fa sentire vicino alla mia famiglia, bene, sono contento, con le tue dire grazie, grazie, sono contento, è qualcosa, dai, c'è un inverno a pus, ah, ecco, quindi ce l'ha scritto la nostra Loredana, quindi questi giorni saranno giorni di caldo e di freddo, insomma, preparatevi, i Marcagnez, però, Sandra, sei meravigliosa, consentimelo, ciao a Marco, grazie davvero a tutti, e allora, Marcagnez, ci vediamo domani mattina, ciao Alella, Isabel, vous avez un tre beau soleil, esatto, abbiamo un sole bellissimo, una giornata meravigliosa, e giustamente Dolores ci ricorda anche le disgrazie di quello che è successo in strada, una preghiera per i familiari di quel ragazzo che ha perso la vita, certo, ridiamo e scherziamo, ma giustamente dobbiamo tenere conto anche di quello che succede attorno, Luisella, buongiorno, a Florinda, buongiorno a tutti i comaschi, Marinella, ciao, Lella, Isabella, bonjour, cara Isabella, bonjour, da Como, Marco, Sandra, buongiorno, e allora, Luisella, Paolo, la tua voce simpaticamente allegra ci dà il buongiorno, che ci rasserena, grazie anche di questa cosa, sai che, incredibile davvero, non li ho pagati, né Sandra né Paolo Alberto, Luisella, ciao anche a te, un salutone, grazie davvero a tutti, a domani, allora, cara famiglia, ci vediamo domani mattina.